Certo aumentando la tassazione, ma anzi andando nella direzione di un fisco meno nemico e soprattutto andando verso una riduzione della tassazione egevolando le famiglie. Questo è il compito del nostro paese, dovrebbe essere il compito di tutta l'Europa. Io penso che purtroppo il fatto che si avvicinano le elezioni europee non aiuta molto in questi che sono dei dialoghi e dei confronti su quelle che sono le politiche migliori. Io penso che assolutamente dopo quello che è accaduto, dal fondo di solidarietà europeo deve per forza arrivare qualcosa per sostenere assolutamente quelli che sono alcuni interventi che il nostro paese deve fare alla luce di tutto quello che è accaduto. Sì, sembra proprio che si stia entrando un po' in un clima da campagna elettorale più che di un confronto più sereno, però ci auspichiamo che la campagna elettorale stia fuori da quelle che sono alcune logiche che riguardano non solo l'Italia ma tutta l'Europa. Speriamo davvero che si possano ottenere soluzioni importanti, ma io di questo ne sono abbastanza convinto visto anche il lavoro che si sta facendo, magari per esempio anche sullo stesso PNRR dove il Ministro Fitto sta lavorando in modo molto intenso con la Commissione europea e presto arriveremo ad una soluzione buona che tenga conto di questi importanti investimenti che l'Europa ha messo a disposizione e che dall'altra parte veda anche delle opere che si realizzino nei tempi previsti.